La pedonalizzazione dei fori imperiali rappresenta una svolta per la valorizzazione del patrimonio archeologico? Lo è sicuramente e non sono d'accordo con l'architetto Fuxas che preferisce partire da generale, da una visione molto ampia. Penso che questo sia un modo per far vedere l'area com'è senza le auto. Non si può che partire da qui, da questa politica di passi che peraltro è stata condivisa in gran parte dalla popolazione, dai cittadini romani e quindi credo che l'archeologia ne trarrà un grande beneficio tornando a gestire un'area di grandissima importanza con la stessa tradizione culturale che l'ha accompagnata per oltre due secoli e rilanciando i temi propri della città contemporanea. Che impatto avrà il divieto alle auto private sulla fruizione del patrimonio storico? Che le persone potranno girare senza quella strana impressione che abbiamo sempre quando ci sembra di arrivare, sfrecciare dentro l'area dei fori, con me il famoso centurione che ha l'orologio al polso. Sarà un tempo diverso quello che si presenterà ai fruitori che potranno appunto passeggiare e riprendere un tema antico che era quello della passeggiata archeologica tra i resti che era stato già ipotizzato dall'amministrazione francese De Tournone all'inizio dell'Ottocento. Ci sarà un grande beneficio per i fruitori anche dal punto di vista della salute e la salute delle pietre anche ne trarrà grande giovamento. I fori diventeranno il parco archeologico più grande al mondo. Che cosa rappresenta per Roma e per l'Italia? Anche appunto i francesi parlano di mise en valeur, certamente un modo per valorizzare la ricchezza del patrimonio italiano e romano, che è straordinario, questo ovviamente lo sanno tutti, scelte importanti a livello strategico che significheranno riprogettare l'area col contributo delle maggiori figure a livello internazionale e quindi di nuovo accentrare l'attenzione su un'area che ha bisogno soprattutto e prima di tutto di cure, di carattere archeologico, di carattere paesaggistico, che sarà un esempio straordinario, questa volta in positivo, Legasi Pompei, per l'Italia e per l'intera umanità.